Ma ti devo scuorre, ma ti devo scuorre, moccacchita morta, aciriteva! Questa, questa l'hai persa tu Gennaro Cattuso, l'hai persa tu, l'hai persa, anzi l'abbiamo persa tutti, perché abbiamo fatto una grandissima figura di merda stasera, hai fatto una grandissima figura di merda, il primo che ha fatto una grandissima figura di merda è Osimena, non me ne fotte proprio, con tutto il bene che gli voglio, ma stasera vuoi Osimena ha fatto schifo, non puoi sbagliare quel gol davanti porta, ho capito che tiene 20 anni, 21 anni, quanta cazzo anni tiene, però lì ci devi andare con la forza, con la grinta, lì esegniamo cammammata! Annaccia a Bucchino, hai un Mertens, pure Mertens stasera non ha fatto una cazza, Fabiano Ruizio, non ne parlo perché Fabiano Ruizio è stato solo a Ciro, cerca sempre il controllo e vuole sempre fare il tunnel e è stato a Ciro solo per questo, deve fare la panchina a vita, deve fare, solo per questo deve fare la panchina, l'unico che si è salvato stasera, lo sapete chi è? Cali tu Coulibaly, punta, basta si è salvato solo Coulibaly, basta! Il Napoli, oio, il Napoli nel primo tempo, se finiva 3-0 nel primo tempo, non era niente di clamoroso, ma tu inizia a sbagliare, di qua e di là, puoi sbagliare qua, puoi sbagliare là, oh, va ribigliato o no? C'è un po' di logica in questo schema di calcio, in questo schema che gioca Gattuso, è normale che al centrocampo si è più scoperto e quindi devi fare, ma se tu quando non sei in possesso palla non fai un 4-4-2, come dovrebbe essere in origine il 4-4-2, è normale che poi vai in affanno al centrocampo, bagaglio con, non è che può fare tutti gli interventi sulla palla, è normale che poi fai il fallo e non ci arriva e vai in sofferenza perché è solo, Fabiano Ruizio non corre, Fabiano Ruizio vuole la palla sui piedi, poi non corre, perché Fabiano Ruizio non corre, oio, questo è da dirlo, Ossiman, io, che ve l'ho detto, io gli voglio bene Ossiman, è giovane, deve crescere, deve maturare, però stasera ti piglia chi ti ha morto stasera, stasera prendi chi ti ha morti caro Ossiman, perché stasera li prendi, perché hai fatto una partita in merda, ne hai fatto uno controllo e ne hai fatto uno stop e ne hai fatto una Marongi e Gesù Cristo, stasera hai fatto veramente cagare, ma tutto il Napoli in generale ha fatto cagare tranne Coulibaly, l'unico che si salve è Coulibaly, questi dicono, Politano, grande partita, che ha fatto Politano, che ha fatto per dire ha fatto una grande partita Politano? Niente, vai, ci stava perdere una partita perché ci stava, perché ci stava, ma non perderla con il Sassuolo, senza gli attaccanti titolari, è questo che a me mi fa sagliare a frevo, se questi stasera avevano caputo e berarti, quando ce ne schiaffava Narend stasera in contropiede? Cioè, io non ho veramente parole, ho solo chi da morti per voi.